Ciao a tutti e benvenuti in questo canale, sono D'Alessandro Davide e oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come fare una corretta diagnosi di una lavatrice carica dall'alto rumorosa e come sostituire i cuscinetti. Prima di iniziare per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace, in questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Se volete sapere come si apre una lavatrice carica dall'alto per accedere ai componenti sappiate che trovate il video in questo canale quindi se non siete iscritti fatelo e li troverete il video. Se durante la centrifuga sentite un rumore come se stesse decollando un aereo e all'aumentare dei giri della centrifuga questo rumore aumenta è molto probabile che ci sia un problema sui cuscinetti. Per verificare appunto questo è necessario togliere la cinghia e girare il cestello così a mano. Questo perché togliendo la cinghia abbiamo escluso il motore e quindi in questo caso se sentiamo un rumore arriverà sicuramente dal cuscinetto. Comunque avvicinandosi con l'orecchio mentre questo gira si dovrebbe sentire un fruscio molto forte. Considerate che la lavatrice monta due cuscinetti, uno su questo lato che è quello più difficile da sostituire e un altro dall'altro lato che è molto più semplice perché non c'è la pulleggia. Considerate anche che in genere quando il cuscinetto è rumoroso perché è arrugginito quindi potreste trovare una scia di ruggine o di calcare in questa parte qui. E adesso vi faccio vedere come si sostituisce il cuscinetto. Sappiate che quando la lavatrice rumorosa più aspettate nella sostituzione del cuscinetto è più sarà difficile sostituirlo. Adesso con una mano teniamo bloccato il cestello, puntiamo questa chiave qui e giriamo in senso anti-orario. Adesso io sto lasciando il cestello, poi lo blocco e svito. Lascio il cestello, lo blocco e svito e continuerò così finché non avrò svitato completamente questa vite. Che vi dico è molto dura. Mi raccomando usate la chiave giusta perché rischiate di spanare la vite e poi non la togliete più. Una volta allentata possiamo svitarla così. Come potete vedere l'albero ha una forma quasi ovale, quindi lo giriamo mettendolo per il lungo così, afferriamo queste due parti così e iniziamo a far oscillare in questo modo tirando un po' a sinistra e un po' a destra. Come potete vedere qui c'è una freccia a destra, quindi girare in senso orario per svitare, girare in senso anti-orario per avvitare. Nel cuscinetto che si trova dall'altro lato della lavatrice è l'esatto opposto, quindi si gira nell'altro senso per avvitare e dall'altro senso per svitare. Fate molta attenzione se non avete esperienza perché rischiate di impazzire perché anziché svitare avvitate viceversa. Ok adesso utilizzando questo attrezzo che dovreste trovare in ferramenta, se per caso trovo un venditore che lo vende vi lascio il link in descrizione o nel primo commento, vi lascio anche il link dei cuscinetti sempre in descrizione nel primo commento, cliccate sul link, visualizzate i cuscinetti con il prezzo e poi scegliete se comprarli o meno. Comunque adesso puntiamo questo attrezzo in questo modo inserendo questi perni nei fori e martelliamo. Una volta sbloccato possiamo proseguire a mano. Sappiate che più aspettate a sostituire il cuscinetto e più farete fatica a svitarlo, può anche essere che dovrete svitarlo completamente a martellate. Comunque adesso la lavatrice è nuova, però potrebbe essere necessario dover grattare tutto l'albero con della carta vetrata per pulirlo bene. Adesso togliamo la guarnizione che andrà sostituita, la troverete già nel cuscinetto nuovo. E poi una cosa molto importante adesso togliamo la guarnizione di tenuta che in genere è molto consumata e la sostituite con quella nuova. Sappiate che a volte potrebbe rimanere una parte del cuscinetto sull'albero, allora in quel caso lì va utilizzato un estrattore per toglierlo. Dopodiché grattate bene tutto l'albero con della carta vetrata e ingrassatelo per bene. Più grasso gli mettete su e più sarà facile rimontare il cuscinetto nuovo. Adesso riposizioniamo sopra la guarnizione di tenuta che ha un verso. Come potete vedere abbiamo una parte più spessa e una parte più sottile. Ecco va montata in questo modo qui. Quindi la parte più spessa va verso il cestello. e la spingiamo lungo tutta la circonferenza spingendola bene fino in fondo. Adesso rimontiamo anche l'altra guarnizione. Applichiamo del grasso all'interno del cuscinetto proprio qui dentro. Ne mettiamo tantissimo di dentro. Ne mettiamo anche un po' sulla filettatura che ci aiuterà a montarlo meglio. Dopodiché puntiamo il cuscinetto. Possiamo sollevare l'albero del cestello con un cacciavite per aiutarci e avvitiamo a mano finché riusciamo. Se non riuscite subito ad avvitarlo a mano in questo modo vuol dire che l'avete puntato male quindi svitatelo e riavvitatelo. A questo punto puntiamo di nuovo il nostro attrezzo qui nei fori e martelliamo da questo lato. è molto importante stringere bene il cuscinetto perché questa parte qui dell'albero, questa parte, deve essere a filo con il cuscinetto. Altrimenti succederà che quando stringerete con la vite la puleggia il cestello rimarrà bloccato. Adesso rimontiamo la puleggia rispettando il segno che c'è sull'albero. Una volta posizionata la puleggia sull'albero possiamo spingerla così. Poi il resto lo farà la vite quando stringiamo. Non ci resta che puntare la vite, avvitiamo a mano fino a dove riusciamo, puntiamo la chiave spingendola bene dentro e facciamo girare il cestello in questo modo senza farci male. afferriamo la puleggia in questo modo e stringiamo. Ripetete la procedura anche per il cuscinetto dall'altro lato che sarà più semplice da sostituire perché non ci sarà la puleggia.